La Grecia è a un bivio, restare nell'euro e dire stop all'austerità, una condizione alla quale ha detto basta anche il premier Tsipras. Le misure chieste dai creditori internazionali stanno mettendo in ginocchio il paese con un aumento della povertà. La famiglia greca media ha perso oltre il 40% del suo reddito durante la crisi, fa notare un analista. Alcune famiglie hanno perso molto di più, pertanto nessun governo o partito politico potrà convincere il popolo che tali misure di austerity supplementari saranno la soluzione ai loro problemi. C'è chi per tagliare i costi della vita ha tagliato anche i fili della luce. Del resto non è semplice far quadrare i conti con la disoccupazione alle stelle e le bollette di gas ed elettricità salite dal 13 al 23%. L'aumento dell'IVA sulla luce creerà un effetto domino anche sui prezzi degli altri beni di consumo. Queste politiche di austerità sono del tutto fuori luogo. Situazione ancora più complessa, quella delle pensioni. Tsipras ha promesso che non ci saranno tagli, ma dove troverà i soldi per una popolazione sempre più anziana e con sempre meno giovani, con un posto fisso. Questa signora ci fa sapere che la sua pensione è stata decurtata. Non ne possiamo più, dice, i governi ci hanno preso anche troppo. Pensionati precari e disoccupati c'è chi ha perso tutto o quasi. ONG e organizzazioni di carità rivelano che il 90% delle famiglie nei quartieri più poveri di Atene, non solo, si rivolge ogni giorno alle mense dei poveri per la sopravvivenza. Ma anche qui ormai i cibo, medicine e vestiti iniziano a scarseggiare. La Grecia insomma si trova di fronte a una crisi umanitaria, come fa notare il nostro corrispondente ad Atene, ma a Tsipras e il suo partito Siriza sembrano non volersi piegare alle richieste dei creditori. Ulteriori misure di austerity sarebbero un duro colpo per un paese e un'economia già al collasso.